Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Un vortice di anticipazioni circonda l'attesa per la prossima edizione dell'Isola dei Famosi del 2024, che avrà come conduttrice la carismatica Vladimir Luxuria. Tuttavia, il clima di attesa è già premio di controversia a causa di una presunta nuova regola, la cui fonte è Pier Silvio Berlusconi. Secondo le ultime indiscrezioni divulgate da Gabriele Parpiglia su RTL, sembrerebbe che sia stata stabilita una norma piuttosto discutibile. I naufraghi non potranno presentare tatuaggi visibili sul loro corpo durante il reality. È una novità che mi è stata rivelata solo stamattina, avrebbe dichiarato Parpiglia, come riportato dai vari media. I partecipanti dovranno categoricamente evitare tatuaggi. Oggi, un tatuaggio può narrare una storia, può esprimere concetti su tematiche delicate, poiché ci troviamo in un'epoca dominata dal politicamente corretto, comprendo questa scelta. È evidente che questa disposizione solleva diverse polemiche e solleva interrogativi sulla libertà di espressione e l'individualità dei partecipanti. Sarà interessante vedere se questa indiscrezione verrà confermata ufficialmente. Ma non è solo questa la notizia che alimenta le conversazioni intorno al reality. La scelta degli opinionisti è un altro argomento di interesse. Sembrerebbe che per l'Isola dei Famosi verrà adottato il metodo Buonamici, già sperimentato con successo al Grande Fratello. In base a quanto trapelato, accanto a Sonia Bruganelli, sarà presente un opinionista di rilievo, nello specifico un giornalista del TG5, Dario Maltese. Se confermata, questa scelta seguirebbe l'ormai consolidata tradizione di includere figure giornalistiche di spicco come commentatori dei reality show. Il palcoscenico è pronto, le indiscrezioni si susseguono e l'attesa cresce. Resta da vedere come si evolveranno le dinamiche e se tutto ciò che è stato anticipato diventerà realtà. Grazie.